e quindi tutti tutti a gridare Gesù al mattino Gesù alla sera Gesù al pomeriggio Gesù in ogni istante della nostra giornata per far vedere che siamo presenti tutti quelli che sono seduti si mettessero in piedi così vediamo ste mani battere muoversi perché dobbiamo lodare Gesù con tutto il nostro corpo come faceva David davanti all'acca dell'alleanza Gesù 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 al mattino Gesù alla sera Gesù Gesù anche al tramontare del sol Lodalo 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 al mattino Lodalo alla sera Lodalo Lodalo anche al tramontare del sol Gesù 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 al mattino Gesù alla sera Gesù Gesù anche al tramontare del sol Se sei venuto qui è perché lo vuoi pregare allora pregalo 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 al mattino Pregalo alla sera Pregalo Pregalo A tramontare del sol Pregalo 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 Gesù, 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 anche al tramontare il sol, Gesù, 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 Gesù al mattino, Gesù alla sera, Gesù, Gesù, anche al tramontare il sol, Gesù, 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 Gesù al mattino, Gesù alla sera, Gesù, Gesù, anche al tramontare il sol, Amalo, 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 Amalo al mattino, Amalo a la sera, Amalo, Amalo, anche al tramontare il sol, Gesù, 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 Gesù al mattino, Gesù alla sera, Gesù, Gesù, anche al tramontare il sol, Gesù, Gesù, anche al tramontare il sol, Gloria, 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 io l'ho incontrato, Gloria, 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 Io l'ho incontrato, gloria, 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 io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore, nel suo Santo Spirito. Io l'ho incontrato, il suo Santo Spirito, io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore, nel suo Santo Spirito. Io l'ho incontrato, il suo Santo Spirito, io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore, nel suo Santo Spirito. Io l'ho incontrato, il suo Santo Spirito, io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore, nel suo Santo Spirito. Io l'ho incontrato, io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore, nel suo Santo Spirito. Io l'ho incontrato, io l'ho incontrato, io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore, ho incontrato il mio Signore. Ho incontrato il mio Signore, ho incontrato il mio Signore. Io l'ho incontrato, io l'ho incontrato, io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore. E' vero? Auguri, alleluia, incontrare il Signore è facile, basta andare da Lui perché Lui per primo che ci cerca, incontrare il mio Signore è più difficile, quando è che il Signore diventa mio? Quando io gli cedo tutta la mia vita, quando io gli dico tu regni, sulla mia famiglia, tu regni sul mio lavoro, tu regni sulla mia malattia, sulla mia situazione economica, tu regni su di me. Abbiamo davvero lasciato tutto a Gesù? O c'è qualcosa nella nostra vita? Per cui diciamo a Gesù, fermati lì, che questa è la mia. L'augurio che faccio a tutti, che questa sera ognuno decida di rimettere tutto nelle mani di Gesù. Gesù è il Re delle mie, di tutto ciò che possedio della mia casa, del mio conto in banca, della mia auto. O quando qualche fratello mi chiede una mano, io mi rifiuto di dargli un passaggio, di prestargli l'auto, di aiutarli economicamente. È capitato qualche volta, sì o no? E poi chi è il fratello? C'è Gesù? Noi, non aiutando il fratello, non abbiamo aiutato Gesù. È vero sì o no? E quindi in quel caso Gesù non era il Signore totale della mia vita. Ecco perché è difficile, è più difficile far sì che Gesù divenga il Signore, il mio Signore. Però noi ce la mettiamo tutta. Gesù conosce i nostri limiti, sa che noi siamo deboli, fragili e ci ama così come siamo. La bella notizia è che Dio, Dio ci ama. Questa è la bella notizia. E quando Dio ama, i problemi non sono più nostri, sono i Suoi. Ce lo vogliamo dire noi l'altro. Così ci diamo coraggio, specie a quelli tristi e quelli che sono venuti qui con qualche problema, cioè tutti siamo venuti con qualche problema. Però è bello sentirsi dire Dio ti ama. Diciamolo al fratello che abbiamo al fianco. Dio ti ama. Più forte, con più fede, Dio ti ama. Ti ha chiamato qui perché attraverso Gesù tu otterrai la vita eterna, la salvezza. È finito? Una bella notizia così che finisce subito. Che bella notizia è? Continuiamo ancora a dirlo a tutti. Dio ti ama. Non essere triste perché Dio ti ama e questa sera farà meraviglia se lo lascerai operare. Ancora. Ve lo state dicendo l'un l'altro? O tutti io a Gesù glielo stiamo dicendo. Dio ci ama. Ci ama così come siamo. Non aspetta come ci ricordava Giovanni che diventiamo buoni o diventiamo santi. E Giovanni ce lo ricorda. quando eravamo ancora peccatori Gesù ha dato la vita per noi. E noi siamo ancora peccatori. Ci è che senza peccato alzi la mano. Peccatori siamo tutti peccatori. E questo è il guaio nostro. E che il peccato si frappone fra noi e Gesù. E ci impedisce di di vederlo di toccarlo. Sarebbe bello che ognuno stasera potesse dire a Gesù Gesù. Son venuto qui perché voglio stare un due tre ore contento. anche se non mi fai niente. Però è bello stare qui e guardarti. E so che tu mi stai guardando. So che tu stai leggendo dentro di me. Tu mi conosci. Mi scruti. sai quando mi arrabbio e quando faccio il bravo. E mi premi solo per quelle poche volte che faccio il bravo. E ti diventichi di quando faccio il cattivo. e allora con questa gioia nel cuore che Dio ci ama. E vi siete seduti un'altra volta. Con questa gioia l'unico canto è alzati. Alzati Gerusalemme. Alzati e risplendi perché il tuo Dio è qui il Signore in mezzo al suo popolo lo ama. E allora tutti alzati risplendi perché la gloria del Signore è su di te. Gesù non aspetta altro questa sera che di amare il suo popolo. cantato alzati e risplendi. Ecco l'acqua in mezzo al tuo Pтомismo. alzati e risplendi ecco l'acqua in mezzo al pò alzati risplendi ecco. l'acqua in mezzo al pò alzati risplendi ecco l'acqua in mezzo al tò E guarda lo sano che il tuo cuore palpiti di allegria. Ecco i tuoi figli che vengono a sé, le tuoi figlie danzano di gioia. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. Gerusalemme, Gerusalemme, canta e danza al tuo Signore. Marceranno i popoli all'acqua luce e rivederanno il tuo splendore. Marceranno i popoli all'acqua luce e rivederanno il tuo splendore. Stoli di campbelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. Verranno la Epa, la Nava e Chirà, per donare il nome del Signore. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. Figli di stranieri costruiranno le tue mura e di loro rivederanno a te. Figli di stranieri costruiranno le tue mura e di loro rivederanno a te. Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata città del Signore. Il dolore è tutto, mi diranno, sarai la mia storia tra le tue mura e di loro rivederanno. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. Gerusalemme, Gerusalemme, canta e danza con il Signore. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. spogliati nella tua tristezza Gesù, 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 Gesù cante e danza al tuo Signore cante e danza al tuo Signore cante e danza al tuo Signore con il segno della Santa Croce iniziare questo primo breve momento di lode il Signore ci chiama a benedire il suo nome santo a proclamare lo splendore e la magnificenza del suo volto Trisagio a tre volte santo siamo chiamati a farli a farlo con la partecipa e composta con emozione del nostro animo in questo momento che ci vede così numerosi nel suo tempio santo noi che ne siamo come chiesa la parte prescelta e angolare il segno di Santa Croce ci introduce nel mistero di Dio uno e trino si loda la potenza fondale dell'amore del padre che ci ha amato pensato e voluto prima ancora della creazione del mondo per fare di noi un regno di sacerdoti al cospetto di Dio come ci ricorda Paolo la potenza del logos il verbo che diventa carne lo spirito santo che continua l'opera della santificazione della chiesa ed è anche un potente esorcismo serve a fugare la potenza dello spirito del male inno tosso logico e preghiera forte sintetica di liberazione allora ci introduciamo in questo primo momento gioiremo esulteremo vivremo l'esperienza della dolce euforia dello spirito come Paolo caratterizza l'esperienza che ogni credente fa dell'azione del paracletos dello spirito consolatore illuminatore suggeritore che ci spinge ad incontrare la via breve dell'amore del padre che è Gesù signore redendore e salvatore nostro amén alleluia nel nome del padre nel nome del figlio e nello spirito santo noi siamo qui nel nome del padre nel nome del figlio e nello spirito santo noi siamo qui per venerire e per l'odà di ingraziare e adorar noi siamo qui nel tuo nome del signore del tuo nome 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 Siamo qui nell'amore di Gesù e siamo qui per fare festa, per cantare tutti insieme a Lui lode e gloria a Te, l'onore e la potenza. Alleluia! 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 Siamo qui per me, nostro Dio e nostro Re. Alleluia! 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 Vieni Signore, regna, regna Signore, ama, ama Signore, salò. Vieni, vieni Signore, regna, regna Signore, ama Signore, salva. Alleluia, 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 noi siamo qui per te, nostro Dio e il nostro Re. Alleluia, alleluia, cantiamo Dio, noi gridiamo al mondo Dio, Gesù, Gesù è il Signore. Alleluia, 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 noi siamo qui per te, nostro Dio e il nostro Re. Alleluia, 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 noi cantiamo, noi gridiamo al mondo Dio, Gesù, Gesù, Gesù è il Signore. Proclamare che Gesù è il Signore significa ottenere la salvezza. Chiunque proclama, proclama che Gesù è il Signore, dice Luca negli atti e sarai salvato. Se fai la professione di fede, con la lingua, ma nel cuore credi che Gesù è stato costituito dal Padre Signore, sarai salvato. Alleluia, allora è una sintesi dosologica e cristologica la proclamazione di questo Kerigma fondamentale e fondativo della nostra fede, che Gesù è il Signore, il Redendore, è il Salvatore del mondo. Ed è quello che vogliamo fare in questo breve e intenso momento, celebrando la lode. Il Signore ci chiama a benedire, a lodare, a magnificare, a esaltare il suo nome santo, che è al di sopra, dice Paolo, di ogni altro nome, perché ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua si sciolga a proclamare che Gesù è il Signore, a lode e gloria del Padre. Amen. Alleluia. Grazie. 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 qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Tu sei il trevolte santo, benedetto sia il tuo Signore, e sono qui per elevare a te la mia lode, a te la lode, l'onore, la gloria e la potenza, a te che sei il trevolte santo, a te che hai lasciato il trono per scendere qui in mezzo al tuo popolo. Per dimostrarci quanto ci ami, e ci ami realmente. Sì, oh Signore, tu solo sei santo, anzi, tu sei il trisagion, il trevolte santo, e la tua santità, kadosh, il tuo splendore luminoso, kevod, in questo momento ci fanno sentire, come a Isaia, di essere impuri e peccatori. Manda, oh Signore, un angelo, con un tizione arroventato, a purificare il mio labbro, perché io sono impuro, e in mezzo a un popolo di impuri io abito. Avertiamo, Signore, questa necessità di fronte a te, che sei l'immensità, la totalità, il totalmente altro, l'indefinibile, l'irraggiungibile, l'aniconico, il mistero per eccellenza, la nostra assoluta pochezza e povertà. Tu sei santo, lo vogliamo gridare, oh Signore, perché ci hai voluto far partecipare, sia pure nella distinzione, senza confonderci panteisticamente, alla tua santità, che ci hai resi santi nel santo, in Deo Gesù, per essere davanti al Padre agapetoi, graziosi, caloi, belli anche noi, di una bellezza riflessa e subordinata, alla tua, che è luce accecante, che è splendore glorioso. Noi siamo stati fatti a lode della gloria del Padre, ricorda i Nefesini Paolo, e allora Isaia ci invita ad avere un cuore gioioso e che si rinnova, anziché un abito di lutto. Siamo qui alla tua presenza, oh Gesù, per adorarti. Adoro te devote, latens deitas, vorremmo ripeterti con Dommaso d'Aguino. Voglio adorarti, oh divinità, che ti nascondi, e nel nasconderti ancora maggiormente ti riveli e ti fai conoscere. Qui a contemplans te totum deficit, perché contemplandoti vengono meno persino i nostri sensi. La vista, il tatto, il gusto, potremmo anche dire l'olfatto, ci ingannano, perché noi vediamo la pochezza del pane, la sfericità e la bianchezza dell'ostia ed è solo la fede che ci dice che tu sei qui veramente, realmente e sostanzialmente presente con il tuo corpo santo, con il tuo sangue divino, con la tua anima, con la tua calda e appassionata umanità redendrice, salvatrice, che ama in immenso l'umile opera, la creatura delle tue maniche e l'uomo. Sei qui, oh Gesù, perché vuoi dirci e darci completamente, profondamente il tuo insondabile e abissale amore, perché tu vuoi amarci e lo stai facendo in questo momento. Sei allora sulla croce, ic latet sola deitas, ora qui per noi si nasconde anche la tua umanitas ed è necessario un doppio atto di fede rispetto al centurione romano che poté dire veramente tu eri il figlio di Dio, a noi è nascosta la tua umanità con la tua divinità ed è la fede che ci dice che tu ci sei e con questo atto profondo di fede che si genera dall'ascolto, fides ex auditu, come sottolinea i romani Paolo, noi facciamo la nostra profonda proclamazione di fede, oh Gesù, e ci riconosciamo indegni e peccatori. Pie pellicane Jesu, dominum nostrum, me immundo, munda tuo sanguine, purificaci col tuo sangue, oh Pio pellicano Gesù, Signore e Salvatore, noi che siamo peccatori. Nutrici con il tuo sangue, il sangue della tua croce che ha redendo, sanato e santificato il mondo perché ora ti vediamo in maniera nascosta. Velatum ad spicio, dice sempre San Dommaso, ma allora poi finalmente noi ti vedremo lì davanti al Padre rivelata face, ti contempleremo cioè nella gloria luminosa del tuo volto splendente, ti adoreremo e ti contempleremo per sempre, Re e Signore dell'universo. Ecco allora, oh Gesù, il nostro atto di fede è in questo momento dell'adorazione, dello stupore, adorarsi, mettere la mano davanti alla bocca che si spalanca, di fronte a un mistero così grande, l'immensità diventa pochezza, l'indefinito si racchiude nello spessore del pane che appare alla nostra vista, ma diventa anche un momento di lode, come dice San D'Agostino, spalanchiamo la bocca per lodarti, per benedirti, per ringraziarti, per dire che il tuo nome è sublime, è santo, è potente, è meraviglioso, come quale tu sei. Ecco Signore, in questo primo momento, nell'adorazione, il nostro cuore si dischiude, si sintonizza col tuo e si prepara alla silente ma gioiosa lode del cuore, perché la non detta parola parlante, il loquace silenzio, possa diventare cifra simbolica e reale di un amore che noi ti gridiamo e ti ricambiamo, sia pure soltanto analogicamente rispetto al tuo Signore Gesù che è immenso. E in questo momento ci prepariamo attraverso tre fasi fondamentali, adoriamo te che sei la parola breve del Padre, consideriamo e adoriamo il tuo amore che nella croce attraverso il dono del perdono diventa comunicazione di carità ardente e radicale per tutti, perché attraverso la via della croce possiamo poi gioiosamente fare l'esperienza contagiante e luminosa della tua risurrezione. Grazie Gesù. Alleluia. Ti adoro, mio Signore, principe di pace, di lodo, se la mia giustizia, ti adoro, mio Signore, ti adoro, mio Signore, che è uguale a te. Ti adoro, mio Signore, ti adoro, mio Signore, che è uguale a te. Ti adoro, mio Signore, principe di pace, di lodo, ti adoro, mio Signore, principe di pace, di lodo, che è uguale a te. Ti adoro, mio Signore, che è uguale a te. 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 Grazie a tutti 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 Io ti amo Grazie a tutti 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 Ti perdono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ti perdono Grazie a tutti 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 Spirito di Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Spirito e Grazie a tutti 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 Tu Grazie a tutti 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 Tu sei Alleluia Alleluia Fratelli Grazie a tutti Anni anche Grazie a tutti 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 Dio Grazie a tutti 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 Io Grazie a tutti E questo Grazie a tutti 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 Cari Grazie a tutti 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 con Cristo Grazie a tutti 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 Salone Grazie a tutti 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 Il vero Grazie a tutti 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 Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti Ave Maria Grazie a tutti 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 Grazie a tutti